La Basilica del Santo Ma non solo, anche i bambini e le famiglie hanno cantato in attesa dei Re Magi ed alcune poesie sono state recitate dai piccoli allievi della scuola materna delle piccole ancelle del Sacro Cuore L'arrivo dei Re Magi è stato annunciato da un messo e preceduto dalla stella cometa I tre Re Orientali hanno portato in dono oro, incenso e mirra Colori, oggetti, profumi che vengono da lontano per adorare Gesù Bambino Ma i Re Magi oggi portano anche un messaggio di integrazione Il cristianesimo non può non portarci ad accogliere le diversità, ad accogliere i popoli, le razze, le lingue, le tradizioni diverse Il cristianesimo non può essere se non così come era Gesù Cristo Cioè luogo di salvezza per tutti coloro che si riconoscono e che si incontrano con il Signore Grazie